Raimondo Scotto di Covella, neosegretario del PD di Procida. Allora, 40 giorni che sei segretario, un primo bilancio di questa esperienza e sera appunto come ti aspettavi che fosse. Devo dire che siamo partiti subito con entusiasmo con la nuova squadra, col nuovo direttivo, ci siamo subito dati degli obiettivi di creare una campagna elettorale in vista delle prossime politiche, una campagna elettorale pulita, data con una... lontani dalle fake news, dalle bugie che possono essere date da altri partiti. Noi siamo una squadra, devo dire, affiatata, eterogenea, con diverse personalità, con esperienze importanti nella vita politica procidana. I prossimi obiettivi sicuramente saranno quelli, diciamo, volti alla risoluzione di problemi locali, come possono essere i trasporti, la sanità, dalle nostre proposte e poi impegnarci in campagna elettorale in vista delle politiche. Hai parlato di fake news, è sulla bocca di tutti questa questione dei sacchetti di plastica. Allora, dacci il verbo, dacci la verità, questi benedetti sacchetti di plastica. Allora, la questione è semplice, l'Europa ci dice di dover applicare questi nuovi regolamenti che sicuramente sono volti a migliorare l'ambiente, a portare, diciamo, un miglioramento poi perché si è visto che sicuramente l'utilizzo delle plastiche deve essere ridotto e quindi delle politiche volte al miglioramento dell'ambiente sono le politiche carne del Partito Democratico e quindi nessun tipo di favoritismo ad altri, diciamo, a delle società, si è parlato di questa società torinese vicina a Renzi, assolutamente no.